Giorno 5, una radigazione, si va a fare colazione Per le prossime 24 ore quello che vedremo è solo questo Solo acqua C'è chi ha problemi di ambulatori in questo momento, causati dalle onde Come ci si sente ad essere suntaggata tutto il tempo? Com'è fare su e giù continuamente? Guarda che adesso sbatte contro il muro da solo Ciao buongiorno con il 5 minuti per partecipare al video buongiorno C'era la pasta, c'erano gli scampi, e lei è impaurita da loro. Ti inquieta, no? Brutti. C'è solo da riabituarci, sì. E poi è tutto bello. C'erano anche le docce nella palestra, mi sono dimenticato di dirto. Allora facciamo tasse. A casa. E in cabina. Ciao. E niente. Andiamo a giocare a bingo come gli anziani. Con gli anziani. Per gli anziani. Su gli anziani. Sì, su gli anziani. Siamo in prima fila come i fighetti. Lei crede che non vinciamo. Però boh, vediamo. Buongiorno a fare questo. Sì. No, 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 no. Io non c'erano. Forza, su, entusiasmo. Dai, vai, su, marcia. Buon pomeriggio a tutti. Prima di dire qualsiasi cosa l'è, una domanda. Vai. Non capisco perché a volte scendiamo dall'ascensore. La camera è subito lì. E a volte dobbiamo farci tutto il corridoio. Appena troviamo una mappa, lo mostro cosa succede. Comunque. Ci andiamo a cambiare per la sera di gara. Aspetta, scusami. La spiego molto semplicemente. Di solito scendiamo da qua e siamo subito qui. Le altre volte che il ristorante è qua in fondo, noi siamo qui. Quindi dobbiamo farci tutto sto pezzo. E lei ancora non l'ha capito. Non l'ha ancora capito. Qual è la difficoltà? Siamo pronti per la cena di gara. Io sono un figo, bello. Ma è bella anche lei. E io sono più bello. Sì, sei bello. Guarda questi capelli. Un giorno te li taglio nel sorno, poi me li appiccico addosso. Magari ti taglio i baffi io. Non c'è ancora arrivata nulla. Non c'è ancora arrivata nulla. Non c'è ancora arrivata nulla. Più forte più fa. La 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 questo va su youtube no adesso andiamo a torsione vai 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 grazie no 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 ancora un minuto scende ah no non è vero no 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 no